Rilevato Forza! Possiamo parcia! Granata! Renta attivata! Alveare restauratore traditori rilevato Alveare restauratore nemico rilevato Torretta cecchino traditori rilevata Torretta cecchino nemico rilevata Alveare nido di vespe traditori rilevato Alveare nido di vespe nemico rilevato Segni vitali critici E' di nuovo in piedi! Merda! Sistema sospeso Sistema riattivato Granata! Granata! Sì, sì, sì. Grave trama rilevante. Sistente medica immediata. Agente a terra. Parametri vitali assenti. Sistente medica immediata. Ficcola gente. Alveare. Alveare. Torretta cecchino traditori rilevata. Torretta cecchino nenica rilevata. Segni vitali critici. Frappella. Torretta cecchino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.